Un buongiorno con Mattino 6, martedì 10 settembre, ieri il governo giallorosso ha ottenuto la fiducia a Montecitorio, mentre per quanto riguarda la nostra regione sono stati nominati i direttori generali delle ASL. Andiamo subito a scoprire cosa è successo nel mondo in Abruzzo dalle prime pagine dei principali quotidiani, a partire da quella del centro. Allarme bomba, stazione bloccata, Pescara treni fermi per ore, passeggeri costretti a partire con il bus e vediamo qui nella fotonotizia l'ingente dispiegamento di forze dell'ordine. E per quanto riguarda invece la politica nazionale, Conte incassa la prima fiducia, la Camera vota il governo 5 Stelle, PD e Liberi Uguali con 343 sì e 263 no e Bagarri in aula. E a Roma intanto 500 abruzzesi in piazza con Salvini e Meloni. Le ASL abruzzesi, piani triennali nella sanità, sbloccate 1157 assunzioni e reddito di cittadinanza via la fase 2 in Abruzzo. E ancora Pescara, taxi, protesta all'aeroporto contro Marsilio e dopo giovanotti Montesilvano sogna a Vasco. Mentre per quanto riguarda lo sport, Pescara riparte la campagna abbonamenti e leggiamo anche il buongiorno del centro. Non lavorate troppo, potreste pentirvi. Proseguiamo con la prima pagina del centro dedicata alla provincia di Chieti. Famiglie con i nervi tesi, boom di liti. Chieti in otto mesi, polizia e carabinieri sono intervenuti 400 volte. Depuratori dissequestrati, 12 impianti a Chieti. A Ortona controlli sui lidi e mare, multe record. A Vasto, mercato coperto, piano di rilancio con un birrificio. E la prima pagina dedicata a Teramo. D'Alberto, sisma, sbloccate i fondi. Teramo, il sindaco chiede a Farabollini di firmare l'ordinanza da 87 milioni. La fotonotizia è dedicata all'omicidio dell'aprile 2011. La famiglia di Melania Rea non date i permessi premio a Parolisi. E l'inchiesta terrorismo da Alba, 2 milioni agli islamici. A Teramo, zoo profilattico, muore noto epidemiologo. Giulia Nova, settimana corta in tre scuole superiori. Andiamo a vedere la prima pagina dedicata alla provincia dell'Aquila. Scuole, lettera appello a Mattarella. L'Aquila, rappresentante degli studenti del Cotugno, chiede un incontro. Ricordiamo che già da quest'oggi, anzi già da ieri, gli studenti di Lanciano sono a scuola. Gli altri torneranno sui banchi lunedì prossimo. L'Aquila, isola pedonale stesa anche alle domeniche, operaio ucciso a 42 anni da un infarto al luco dei Marsi. E nuotatore morto di scanno si indaga sui certificati. E ad Avezzano il parco dei dinosauri vietato ai bambini, ma costa 3.900 euro al mese. Ed ecco la prima pagina del messaggero Abruzzo, che titola Sulla Sanità. Ecco i nuovi manager. Roberto Testa all'Aquila, Thomas Schell a Chieti. Si apre a Teramo il dopo Fagnano, un vertice sulle altre nomine varate dalla giunta regionale. 1.157 assunzioni nelle ASL, ma anche il disagio a Pescara, la Caritas, vere case, ai senza tetto. Mentre è ancora emergenza per le moltissime persone senza un tetto sulla testa. Ho visto il cervo che incornava l'escursionista, il cercatore di funghi sempre gravissimo, il testimone oculare, una scena terribile. E ancora il falso allarme a Pescara, treni bloccati per due ore, bombe nucleari, caos alla stazione. Mentre a luco dei Marsi la cronaca, ucciso da un malore, mentre va a lavoro. E andiamo a vedere le prime nazionali invece, a partire dal Corriere della Sera, che apre con la politica fiducia a Conte e scontro in aula il Premier Riforme e Linguaggio Mite, l'opposizione elezioni, gentiloni verso gli affari economici dell'Unione Europea. Il discorso interrotto da proteste e Corri da Stadio, i sì all'esecutivo giallorosso, sono stati 343, i no 263. Oggi si replica, voto al Senato. E vediamo intanto la Camera, la piazza e una gara di urla. Le due manifestazioni, per così dire, contrapposte di ieri, quella istituzionale alla Camera e quella in piazza della destra. Presidi, prof, educazione civica, i voti alla scuola che ricomincia. E anche Casa Pound e Forza Nuova, cancellati i profili social, Facebook, stop a chi diffonde odio. E andiamo avanti sul fatto quotidiano. Conte scalda e separati in casa. In cassa la fiducia della Camera con patti giallorosa, un po' freddini e ribatte colpo su colpo agli attacchi di Salvini e compagni. Con Conte si lavora per cambiare l'Unione Europea, carcere agli evasori, Benetton e Trivelle, nei punti toccati dal discorso del Premier ieri alla Camera. E programma e stile, ok, ora però i fatti. E Salvini si imbuca nella piazza di Meloni per le urne smarrite, il capitano tra i saluti romani. Ricordiamo la polemica sulla foto che ritrae alcuni manifestanti col braccio teso. La Repubblica, la rabbia nera contro il Conte Bis, duello alla Camera tra il Premier e la Lega, fuori dall'aula i saluti fascisti. Salvini guida la protesta davanti a Montecitorio. Migranti si cerca un accordo con Bruxelles per smontare il decreto sicurezza. Gentiloni commissario agli affari economici. Facebook oscura Casa Pound e Forza Nuova incitano all'odio. Ma vediamo anche il welfare asilinido gratis per le famiglie a basso reddito. Le donne del clan minacciano Federica Angeli per quanto riguarda il processo spada a Roma. Il mattino di Napoli. Fiducia a Conte, rissa con la Lega, via libera della Camera con 343 sì. Il Premier sfida agli ex alleati da irresponsabili votare. Bagarri in aula, l'opposizione scatenata, venduti e senza dignità. Andiamo alle elezioni. Ancora il caso di Casa Pound e Forza Nuova oscurate. Ma vediamo anche la fotonotizia. Napoli, condannato a 16 anni dopo 12 mesi in permesso premio. Uccise il vigilante la festa sui social e la scuola riparte con più supplenti e meno studenti. Nel mezzogiorno sparite 51 mila iscritti. Sono oltre 200 mila le cattedre vacanti. Anche in Abruzzo un calo degli studenti. La provincia dove ci sono stati meno iscritti è quella di Chieti. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Il manifesto Gentiloni verso gli affari economici. Bruxelles oggi a mezzogiorno. La decisione della Presidente della Commissione dell'Unione Europea, von der Leyen. E per quanto riguarda l'immigrazione, Conte chiede aiuto all'Europa. Vediamo nella fotonotizia Conte affiancato da Di Maio e dal neoministro degli interni. Con 306 umite, la citazione del manifesto, con 343 favorevoli. Il Conte Bisso tiene la fiducia alla Camera nel lungo discorso. Il Premier giallorosso promette il cambio di passo su ambiente, lavoro e welfare. Poche le novità sui migranti. Servono toni bassi e un linguaggio pacato. La destra scende in piazza. Ma ancora la società, la sinistra collaterale che conta nel Paese, clima una lotta per il futuro della specie. Intanto Brexit, il Parlamento è sospeso, ma Johnson non basta. Dalla piazza ai seggi, Putin tradito da Mosca. In Colombia, un weekend di sangue e strage di leader sociali. Il messaggero Conte riparte, rissa con la Lega, ok la fiducia alla Camera, con 343 sì e 263 no. Meloni e Salvini in piazza, poltronari. Sfida del Premier, ora riforme, elezioni da irresponsabili. Unione Europea, gentiloni verso l'economia e anche manovra e nodo infrastrutture, stop all'IVA e tagli limitati. Alcuneo arriva la stretta sulle concessioni, mentre asili, azzeramento delle rette, ma entra solo un bimbo su dieci. La fotonotizia è dedicata alla Gran Bretagna. Brexit s'allontana, il voto anticipato, la Shabberco, l'arbitro dei match sul No Deal. Johnson ha le corde. Nella finanziaria più extra costi per Roma Capitale, Palazzo Chigi serve un nuovo statuto che riconosca il ruolo che la città riveste. E protesta anche Forza Nuova, Facebook no all'odio e blocca Casa Pound. Ecco Libero, la fotonotizia dedicata a un conte pensieroso, il bisconte dorme e sogna. La Camera vota la fiducia tra i fischi nel discorso dell'Avvocato, soltanto luoghi comuni e promesse irrealizzabili. L'opposizione lo ridicolizza in aula, come vediamo, tutta altra lettura da parte di Libero. Il Premier attacca ancora la Lega, ma avere i problemi gli ha in casa, ossessionato da Matteo, sarebbe Conte secondo Libero. Boicottata la protesta della Meloni e di Salvini. Il centrodestra riempie la piazza contro l'esecutivo giallorosso e la sinistra vuole il monopolio dei toni duri, chiede mitezza, intanto Mena. Nel frattempo, nave carica di profughi, insiste a venire qui, arriva il barcone, il governo naufraga. Il sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria, fiducia a Conte, quota 100, resterà solo un altro anno. Via Libera della Camera all'esecutivo, Bagarri in aula di Lega e Fratelli d'Italia, il Premier subito 11 leggi, Boccia, il Presidente di Confindustria. Pochi fondi servono priorità, ma comunque si è espresso a favore del nuovo governo. Dalla norma sulle pensioni anticipate, dote di 4 miliardi, finestra chiusa già nel 2020. Oggi i nomi gentiloni verso gli affari economici, la nuova Commissione dell'Unione Europea. Leggiamo anche il piano Trivelle, già a rischio del Rio su alcune concessioni autostradali. Resta possibile anche la revoca. E la correzione della dichiarazione non può migliorare la pagella fiscale. Il controllo potrà rendere nulla la compensazione fatta senza il viso. Ma leggiamo anche dagli Stati Uniti il tweet di Trump e le conseguenze sui mercati. L'iniziativa di JP Morgan, l'analisi su come basi un tweet di uno degli uomini più forti del mondo a influenzare i mercati internazionali. La stampa, l'aula e la piazza, sfida fra due Italie. Conte è presente nel programma, attacca Salvini e si scatena il far west. Corie e sedie in alto e fuori Montecitorio e Migliaia dicono di no. La mozione di fiducia passa, oggi replica al Senato. Il PD tenta Renzi e gli offre la presidenza. Gentiloni, commissario all'economia. Vediamo, si comincerà nell'agenda del governo con Asilinido e Cuneo Fiscale. Giorgetti l'esecutivo può anche durare, il Premier è cambiato. Oscurati sul web, Forza Nuova e Casa Pound, come abbiamo già visto. La verità di Maurizio Belpietro, porti aperti, piazze chiuse. Impedito l'accesso in centro a migliaia di manifestanti di Fratelli d'Italia e Carroccio. In aula Conte a Morba per oltre un'ora sproloquiando di Green New Deal e Asili. Dal programma del ciuccio si capisce una sola cosa, tornerà l'immigrazione in barba. All'italiani Facebook oscura centinaia di profili di membri di Casa Pound e Forza Nuova. La sinistra ride, la camera dà la fiducia al ribaltone e oggi tocca al Senato. Il governo Nato contro l'IVA aumenta l'IVA. Per Renzi l'unico motivo per il bis era sventare l'imposta sui consumi. Eppure la nuova compagine già ragiona di maggiorazioni selettive e dilaga la balla del tesoretto derivante dallo spread in calo. Ma ricordiamo, lo spread non è una favola ma una questione economica che ci tocca da vicino. Gli antirazzisti attaccano il razzista Turan, l'ex accalciatore accusato di discriminare i bianchi. Hitler si scusò coi musulmani perché l'Europa non è islamica. Ringraziamo gli ustari alati alla riproposizione storica della verità. Il tempo di Roma. C'è chi dice no a Migliaia in piazza davanti a Montecitorio contro il governo delle poltrone. Meloni e Salvini battezzano l'opposizione all'inciucio. Cinque stelle e PD li spazzeremo via col voto. L'Italia chiamò. Vediamo la fotonotizia con i manifestanti in piazza. Quest'oggi la vignetta di Oscio è ridotta al lato della pagina. Non te gira sabito. Lassù c'è stato Ninelli che ci sta a fare le corna. La battuta sul tempo. Urla e proteste. Il conte bis parte benone. Ancora leggiamo. Al Sittino pure in aula. Forza Italia si spacca. Azzurri a metà del guado. Ai gentiloni alla fine la spunta va a guardia dei conti dell'Unione Europea. Il secolo di Francesco Sorace. Prime prove di regime. Trentamila in piazza. Troppi. Il PD occupa tutto e non tollera il dissenso. Trentamila in piazza a Montecitorio. Un solo amore. Il tricolore. Perché hanno deciso di non portare bandiere di partito. Ma solo quelle dello Stato. Concessioni. Rabbia 5 Stelle. Conte fumoso in aula. E Facebook. Cancella a casa Paon. Iannone. Uno dei leader. Class action. Il secolo XIX. Prima fiducia. Conte in un clima da stadio. Lui promette riforme. La piazza urla al voto. Il governo 5 Stelle PD. L'EU ottiene alla Camera 343 sì. Oggi replica in Senato. Cori e una sedia scardinata. Nel dibattito alla Camera. Lega e Fratelli d'Italia attaccano. Il Premier replica duramente. E accusa Salvini. Giuseppe Conte. Il fatto di pensare che una singola forza politica possa decidere ogni anno. A suo piacimento di poter portare il Paese alle elezioni. È irresponsabile. E dall'altra parte invece la dichiarazione di Salvini. Possono sprangare Montecitorio. Ma non invidio chi sta chiuso nel palazzo. Pensando solo a spartirsi poltrone contro la maggioranza degli italiani. E per quanto riguarda il programma. Ancora una volta. Scuola, clima e famiglia. In cima all'agenda cautela su autostrade. Il governo ci va in punta di piedi. Il PD vuole offrire la presidenza a Renzi. L'ex Premier è tentato. Gentiloni nomina pronta agli affari economici. King ex Banca d'Inghilterra. La Brexit ci darà vantaggi. E fronte unico. Governi e Banca Centrale Europea. Serve un patto anticrisi. L'avvenire è il quotidiano di ispirazione cattolica. Conte, mitezza e riforme. Nel discorso del Premier l'annuncio di una modifica. Nei decreti di sicurezza. E di politiche migratorie concordate con l'Europa. Fiducia alla Camera, 343 voti e impegni a un nuovo stile di governo. E uno sviluppo sostenibile. Asili gratis. Primo annuncio. Gentiloni verso l'economia a Bruxelles. Lega e Fratelli d'Italia contestano in aula e in piazza. E vediamo il Papa che continua il suo tour in Africa. La povertà non è fatalità. Il Papa in Africa no ai modelli che sacrificano giovani e ambienti. Facebook cancella Casa Pound e Odiatori. Svolta del social network. Blocco anche di Forza Nuova nella fotonotizia. La sede in via Monte Napoleone a Roma. Assassinati due ambientalisti. Sempre attacco all'Amazzonia. Rassegna delitto dopo la firma dell'accordo in America Latina continua la questione dell'ambientalismo e dell'ambiente a rischio. Anzi storia cent'anni fa e su Tirolo passò all'Italia. Ma proseguiamo con la rassegna stampa. Andando sui principali quotidiani sportivi. Andiamo a vedere la gazzetta dello sport. Palloni d'oro. Li strapagati. Ecco gli stipendi dei giocatori. Abbiamo scoperto che sono sempre più ricchi. Ina 1.360 milioni di ingaggi. Juve boom. E' ancora record. Ben oltre il miliardo effetto Ronaldo. Nei primi dieci più pagati del nostro campionato ci sono sette bianconeri. De Ligt è il secondo. Nuove cure per Schumi. Viaggio della speranza a Parigi. Si prova con le cellule staminali per il campione di Formula 1. Ancora in coma. Ma intanto sempre la Formula 1. Tutti pazzi per Leclerc. In otto giorni è diventato l'idolo. Ferrari dopo aver vinto il Gran Premio di Monza. Il malinconico Diego. Ma il mito rimane. L'ultima avventura di Maradona. L'indistruttibile Nadal. Ha uno slam da Federer. Dopo il trionfo a New York. Inter. Si ai piccoli. Berella, Sensi. Ok in azzurro. E Lukaku. Segna. Buone notizie dalle nazionali. Il tandem funziona. E il bomber belga ancora in gol. Monza, l'Elisir di Berlusconi. E un mini Milan. Primo in C. Con lo stile Champions. Gagliani, Silvio è tornato. Tifoso. Il Corriere dello Sport. Là alla Zeman. Ecco, rivediamo l'allenatore a cui Pescara è molto affezionata per forza di cose. Il tecnico del bel gioco spiega perché si torna a segnare di più. Detto da lui che di gol se ne intende. Lazio è l'anno bonus. È una grande squadra. C'è anche il premio Scudetto. Ma i tifosi sono freddi. Italia al top. Mancini ha già vinto. Rendimento da primato. Invertita la rotta nel ranking. Adesso entrano altri mille gol da Sanchez a Llorente. Sarà il weekend del bomber con una dotazione da record. Leclerc cancella Sebastian Vettel. La Ferrari ha già deciso per il 2020. Charles ispirerà la macchina anti-Merceders. Intanto, come abbiamo visto, Schumi trasferito in ospedale a Parigi. Ha raggiunto in elicottero il George Pompidou per una cura top secret. E andiamo su tutto sport. La rivoluzione Leclerc. L'esplosione di Charles cambia gli scenari della Ferrari e della Formula 1. Il PSG e il Tottenham non mollano e sono pronti a tornare all'assalto dell'argentino a gennaio. La Juve fatica a trovare spazio nella Juve. All'orizzonte profila un'altra panchina nella sfida di sabato a Firenze. Stiamo parlando ovviamente di Dybala. Il Dybala scotta. E vediamo anche, c'è tutto per il salto. Torio Champions perché crederci. Dopo il buon inizio di campionato. Il tecnico commosso Gasperini, cittadino di Bergamo. Il giorno più bello. Nadal, campione infinito. Firma il diciannovesimo slam. Ci come cuore il sogno di Monopoli. E per la prima parte della nostra rassegna stampa è tutto. Adesso le previsioni del meteo per questa giornata. E subito dopo rimanete con noi perché andremo a sfogliare pagina per pagina i quotidiani abruzzesi. A tra poco. E questo è il buongiorno di mattino 6, martedì 10 settembre. Bentornati con noi. Andiamo a sfogliare i quotidiani regionali, a scoprire cosa è successo ieri in Abruzzo. Partiamo dal centro. Tumori dopo 5 anni. Il 56% dei pazienti sta bene. Il dato medio è contenuto nel nuovo report dell'Agenzia Sanitaria regionale. La percentuale varia tra maschi e femmine in base al tipo di neoplasia. Il cancro diventa sempre più curabile grazie ai progressi della ricerca. In genere le donne hanno una prognosi più favorevole degli uomini. Deposito nazionale rifiuti nucleari. L'Abruzzo non è tra le zone idonee. Questo per rischio sismico e alluvionale. Sanità. Sbloccate 1.157 nuove assunzioni. Aumenta lo stipendio dei direttori generali delle ASL da 115.000 a 149.000 euro l'anno. Stanziato 1 milione per la saga. Bussi rinviato a processo civile. Atti di citazione da altri comuni. L'Aquila alla prossima udienza il 20 gennaio del 2020. Pescara il ministro del Sud provenzano domani al seminario PD sul lavoro. Reddito di cittadinanza scatta la fase 2. L'assessore Fioretti avvia le convocazioni. Ma i colloqui dalla prossima settimana. In Abruzzo 13.981 persone interessate. Mentre sono state presentate per quota 100 5.055 domande. in Abruzzo. Andiamo sulla pagina di Pescara. Come vedete dalle immagini. Grande mobilitazione. Ieri per l'allarme lanciato. Stazione allarme bomba. La città resta paralizzata. Le forze dell'ordine blindano. Lo scalo. Treni fermi per oltre due ore. e traffico in tilt. Telefonata anonima. Scappia il caos. Ma dall'altro lato del telefono non c'era di certo il Mossad. Visto che parlava di bombe nucleari. Ma solamente un burlone. L'odissia dei viaggiatori. Tornati a casa in autobus. Centinaia di persone costrette ad aspettare in strada. alla conclusione dei controlli. Poi si accalcano davanti ai tabelloni luminosi. Che segnalano i ritardi dei treni. Sciopero dei tassisti all'aeroporto. Ci portano via i clienti pescaresi. Ieri braccia incrociate. Per dire no al decreto Marsilio. Che apre l'aeroporto ai colleghi di Chieti. Il sindaco Masci. Pronti a presentare ricorso al TAR. Faremo di tutto per tutelare i nostri lavoratori. E a proposito di questa notizia. Allora andiamo a scoprire quali sono le ragioni dei tassisti pescaresi. Nell'intervista di Paolo Renzetti. Giornata di sciopero per i tassisti pescaresi all'aeroporto d'Abruzzo. Dove ci troviamo in questo momento. Sciopero annunciato sabato scorso per protestare contro questo decreto della regione Abruzzo. Firmato dal presidente Marsilio. Che ha stabilito che due degli otto stalli presenti qui nello scalo aeroportuale. Siano destinati ai tassisti teatini. Voi non siete d'accordo. E questa è la ragione appunto dello sciopero. Buongiorno. Sì questa è la motivazione. Perché non la riteniamo giusta. Perché licenze di altri paesi vengono a sostare all'interno della città di Pescara. E anche per dire al presidente Marsilio che poteva pur interpellarci a noi e a tutta la città di Pescara. Nessuno ci ha chiamato, nessuno ci ha chiesto. È stato firmato un decreto in agosto, pubblicato in agosto, all'insaputa di tutti. E questo ci dispiace, ci fa pensare che il presidente abbia percorso una cosa antipescarese in pratica. Perché almeno chiederci cosa poteva provocare un decreto del genere, poteva anche domandarselo. Gli avremmo risposto tutte le problematiche a cui adesso andiamo incontro. Comunque prenderemo tutte le cose per potergli far annullare questo decreto. Voi avete anche specificato, lo avete fatto anche nei giorni scorsi, che non è una questione di campanilismo. Ma soprattutto una problematica derivante anche dal lavoro che in alcune ore della giornata è praticamente inesistente qui in aeroporto. Adesso che è estate ci sono più voli. Questa mattina nell'arco di sei ore è arrivato un solo volo. con poca gente che voleva il taxi. Oggi pomeriggio ci sarà qualche volo in più, ma parliamo comunque di voli stagionali e voli a basso costo. Quindi di per sé la clientela è un po' esigente sullo spendere soldi. Quindi non c'è tutto questo flusso di clienti per i taxi. C'è flusso per la città di Pescara, ma per noi tassisti è abbastanza ridotto. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Le naia di sindacati e il PD vogliamo chiarezza sul futuro, mentre i dipendenti sono ancora senza lavoro. Mentre a Pescara installata la panchina d'Annunziana, inaugurata in Piazza Salotto, con l'attore Silo Slabini, sarà poi spostata all'Aurum. Sì, perché questa è la settimana in cui si celebra il centenario dall'impresa di fiume di Gabriele D'Annunzio e a Pescara, che è la città che gli ha dato i Natali, e subito D'Annunzio Mania, soprattutto ora che c'è il sindaco Masci, che fu tra i promotori del logo Pescara-Città-D'Annunziana. Ma allora, visto che questa è la settimana in cui ci saranno questi festeggiamenti, andiamo subito a ricordarci cosa è successo cent'anni fa. Il servizio. Ed Annunzio Mania a Pescara per le celebrazioni del centenario dell'impresa di fiume. Ieri all'Aurum mostra fotografica e spettacolo teatrale alla presenza dei celebri Diego Fusaro e Giordano Bruno Guerri, che ha selezionato le foto. Sono importanti non solo per la storia dell'impresa di fiume, ma per la storia in generale, perché ci sono visi, vestiti, luoghi, abitudini, cibi, modi di essere, di fare, che sono pochissimo documentati dalla fotografia. Proprio la vita quotidiana di una città è una ricchezza straordinaria. Sono infatti passati cent'anni da quando D'Annunzio, con al seguito un migliaio di ribelli italiani, raggiunse fiume il 12 settembre 1919 e proclamò l'annessione della città adriatica, che era abitata sia da italiani che da serbi, al Regno d'Italia. L'epica impresa che cercò di restituire fiume alla madre patria è qui rievocata sulla scorta di sommarie documentazioni in memoria del vaticinatore della nuova Italia, Gabriele D'Annunzio. Al termine della Grande Guerra si diffuse l'insoddisfazione per la cosiddetta vittoria mutilata. Inghilterra e Francia si opposero all'annessione della Dalmazia, in quanto l'Italia non aveva rispettato i precedenti accordi di Londra. Non ci volle molto, così, per un maestro di retorica come D'Annunzio, a sollecitare gli animi dei reduci di guerra. L'impresa fu supportata sia dai socialisti, che in essa vedevano la scintilla della rivoluzione proletaria, sia dai nazionalisti, abbindolati dalle promesse di terra di Mussolini. Un vero e proprio colpe contro il governo nazionale, ma se questo avesse risposto con le armi, molti tra il reggio esercito si sarebbero schierati con D'Annunzio e sarebbe stato l'irreparabile. Così l'Italia optò per il boicottaggio, bloccando i rifornimenti di fiume, ma la contromossa del Vate non si fece attendere. Istituì il divorzio, che in Italia diventerà legale solo nel 1970, e così, pagando, molte coppie si recarono a fiume per annullare il matrimonio. La svolta arriva con l'elezione di Giolitti a capo del governo, che nel 1920 firma il trattato di Rapallo con serbi, croati e slavi, e al rifiuto di D'Annunzio di lasciare la città, Giolitti dà l'ordine di aprire il fuoco. I D'Annunziani sono così sconfitti e il Vate si ritira sul lago di Garda, dove trascorrerà i suoi ultimi giorni tra amanti e cocaina. Cent'anni dopo, le celebrazioni dell'impresa si accendono nella città che ha dato i Natali a D'Annunzio, che da sempre ne utilizza il nome a scopi promozionali. Vi è bene cogliere ogni buona occasione per ricordarlo, ricordarlo innanzitutto alle giovani generazioni che non hanno mai avuto magari un'occasione, un'opportunità, e per fare in modo che questa memoria, questo lascito, questa eredità culturale possa essere rinnovata e rivivificata. Sono molte le iniziative che si terranno in diversi luoghi di Pescara, fino al concerto conclusivo di domenica prossima all'Aurum. E bentornati nel presente, torniamo sul centro. I ragazzi dell'ISPRAR trasformati in attori, Pescara è un esempio, il laboratorio di teatro a Prodi della registra Ciarcelluti ha vinto il bando nazionale Forza X in scena al Matta. A Montesilvano la riviera sogna dopo giovanotti in mille di questi eventi, pienone di turisti e superincassi, l'entusiasmo di bagnatori e ristoratori alle stelle. Adesso vogliamo Vasco Rossi. E protesta anti-antenne, l'impianto potrebbe essere spostato, Montesilvano il sindaco incontra i rappresentanti della Iliad, i residenti di via Basilicata e di Stop 5G Abruzzo. Ora le regole, sono cinque le autorizzazioni richieste da Iliad. E a Montesilvano, analisi ok, il mare è balneabile, il sindaco revoca il divieto emesso sabato, forse c'è ancora tempo in queste ultime battute di estate per fare un bagno nel mare di Montesilvano. Ma vediamo anche Guasto alla rete idrica in Viale Alcione, fornitura d'acqua ripristinata nel pomeriggio di ieri a Francavilla. Andiamo rapidamente a Chieti, famiglie con i nervi tesi, sempre più liti, in otto mesi carabinieri e polizia sono intervenuti per sedare oltre 400 discussioni, una su tre scoppia tra le mura di casa. E ad agosto c'è stato il picco di richieste. Capocasa, cardiochirurgia in crescita, la direttrice ASL smentisce la CISL sui medici in fuga, assicura procediamo con nuove assunzioni. Le minacce del pusher ai clienti che non pagavano la droga, Chieti, così uno spacciatore che di scalo, legato a una banda albanese, terrorizzava un giovane, mi devi portare i soldi senza scuse, se no ti prendo a schiaffi e ti metto la testa. Nella Fogna, per quanto riguarda ancora l'operazione di Tallone d'Achille, a Teramo la ricostruzione è ferma, d'Alberto sbloccate gli 87 milioni, il sindaco si rivolge al commissario invitandolo a fermare le polemiche e ad approvare al più presto l'ordinanza con i fondi. Permessi premio a Parolisi, la rabbia ad Erea, la famiglia di Melania insorge contro la possibilità che l'assassinio ora in carcere possa usufruirne. Due milioni d'euro per l'Islam radicale, le indagini ricostruiscono i movimenti di denaro fatti dall'imprenditore tunisino che viveva ad Alba, Adriatica, operazione antiterrorismo in Abruzzo. Donna morta scatta l'omicidio stradale a Silvi, indagato il settantenne aquilano alla guida dell'auto che si è scontrata con la moto su cui c'erano la vittima pescarese e il marito. E ad Atri Francioni, per Palazzo Cicada, non ci sono problemi sismici. La rassicurazione ad Atri. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Eccoci all'Aquila. Verso il 16 settembre, data ufficiale per l'avvio di tutte le scuole, una lettera appello a Mattarella, il rappresentante degli studenti del liceo Cotugno, chiede di poter incontrare il presidente della Repubblica in visita in città. Consiglio provinciale si vota il 20 ottobre, avviato l'iter per il rinnovo, stanziati i fondi per 2,8 milioni, destinati edilizia scolastica e viabilità. Malori tre calciatori e giallo sulle cause, atleti di Puccetta Juniors e Angizia Luco, colpiti a distanza di giorni. Dubbi su una fontanella, domani analisi per sicurezza. E ad Avezzano, morte sospetta, si indaga sui ritardi, il PM Timpano affida oggi l'incarico per l'autopsia sulla 67enne morta a Lanciano. E prima di leggere lo sport, andiamo sulle pagine abruzzesi del Messaggero, che apre sulla Sanità, Asl, partita chiusa, l'Aquila e Chieti, ecco Testa e Shell, o mi perdonerà, se ho pronunciato male il suo nome, ieri i due manager a Palazzo Silone durante la giunta, l'ufficialità arriverà domani, sbloccate 1157 assunzioni. Pasta De Cecco cresce del 13%, mentre il mercato nazionale è in calo. Expo, l'Abruzzo parteciperà a Dubai 2020, l'annuncio dato ieri alla Camera di Commercio, Pescara Chieti, ci saremo con il meglio. A Pescara, quattro false bombe, causa la stazione, alle 13.50, una telefonata anonima annuncia ordini nucleari, tra i binari 1 e 8 del deposito Bagaglie, nell'atrio dell'edificio, treni bloccati, passeggeri e lavoratori evacuati, ricerche accurate, con l'intervento del nucleo, dei vigili del fuoco. Miss Italia, legge mia madre un fiume, l'autrice che è bello, vorrei incontrarla, la scrittrice di penne colpita dal racconto di Carolina Stramane, ritengo quel libro, il testamento della mamma. Stop ai dormitori per il senza tetto, servono vere case, di fronte al caso limite dell'uomo nudo, che si lava sulla spiaggia, e il direttore della Caritas, Don Pagnello, chiede un cambio di strategia, intanto ricerche sul Saline, per uno scomparso, è un uomo di 45 anni. Strada sbarrata, i taxi di Chieti, come abbiamo già visto, e di nuovo guerra all'aeroporto, lo sciopero avvenuto ieri, da parte dei tassisti, pescaresi, giovanotti, presto dai ragazzi autistici, verrò a trovarvi in un videomessaggio, per gli ospiti del Cireneo di Vasto, la risposta al regalo, ricevuta sabato, il cantante si commuove, per le immagini di un balletto, sulle note dell'ombelico del mondo, vi aiuterò a sognare, quindi si recherà presto a Vasto, Lorenzo Cherubini, che proprio non vuole lasciare l'Abruzzo, a Montesilvano, il sindaco tratta con i residenti, il 5G, due quartieri in rivolta, contro le antenne, e a Bussi, il tribunale accelera, verso la sentenza civile, ieri prima udienza, entro novembre, la memoria decisiva, dell'avvocatura dello Stato, contro Edison, mentre ricordiamo, per la discarica, dei veleni dei Bussi, e per il reato di disastro ambientale, gli inquisiti furono tutti assolti, la bandiera abruzzese sull'Everest, Corona, l'impresa della nuova ferrata, un'impresa epica, adesso la bandiera della regione Abruzzo, sventola sulla vetta più alta del mondo, vediamo meglio nel nostro servizio. Una bella iniziativa, quella di portare la bandiera dell'Abruzzo, sulla vetta più alta del mondo, oggi la regione Abruzzo, ha voluto dare un tributo, a questo giovane alpinista del Nepal, un'iniziativa partita anche dalla vostra azione. Sì, assolutamente, come abbiamo aperto la conferenza, sono dieci anni di umanità, questi dieci anni di umanità, sono legati a gesti umani, di aiuti reciproci, proprio tra il nostro gruppo Esplora, che ringrazio tutto quanto in toto, e la comunità scerpa dell'Himalaya. Ci siamo aiutati in modo reciproco, soprattutto penso alle nostre azioni durante il terremoto del 2015, 7.8 gradi Richter, oppure penso al periodo che è stato della costruzione dell'acquedotto a Jagat e tante altre azioni monetarie di esplorazione. Furba Tensin Sherpa, che è un Guinness World, è stato premiato due volte sia a Londra sia a Hong Kong, famosissimo in tutta l'Asia. Lui è salito a questo Guinness, di salita sull'Everest, praticamente in tre giorni, lui è salito due volte, quindi è salito, risceso, salito e ridisceso. Per due volte l'ha fatto, l'ultima volta nel 2017. e con lui si sono avanti degli studi sulla fisiologia umana, questo con l'Università di Bologna e ci sono delle pubblicazioni nell'Università di Oxford, Chicago e logicamente Bologna su riviste come Nature. Ed eccolo il protagonista di questo grande gesto, portare la bandiera dell'Abruzzo sulla vetta più alta del mondo, sull'Everest. Com'è nata questa iniziativa? Ah, è un mio piacere, perché... È un suo piacere? Sì. Ho incontrato il Davide, l'italiano team in rollballing. Ho incontrato il Davide con il suo team italiano nella rollballing in Nepal. In Nepal, sì, e hanno aiutato molto, perché hanno risposto e hanno fatto il via, il via, il via, il via, il via, il via, il via. E ha fatto delle attività alpinistiche nella sua vallata, con la corda fissa nel percorso individuato. Sì, poi, dopo, in mio cuore, cosa posso fare da mia parte all'Italia? E quindi lui ha pensato cosa posso fare io per contraccambiare questo gesto agli italiani, all'Italia? E così è nata l'idea di portare sulla vetta del Monte Everest la bandiera dell'Abruzzo. E adesso andiamo all'Aquila sulle pagine del messaggero Abruzzo. Autobus, niente biglietti a bordo, esplode la protesta degli utenti, autisti sul piede di guerra per la mancata erogazione del premio produttività previsto dall'azienda. La mancanza di liquidità della società partecipata ha generato un disservizio con molte lamentele. E intanto l'Ateneo compra gli scavi di Amiternum, disponibilità dell'Università a tutelare un terreno oggetto di importanti studi. Penne Nere raduno per 10.000 dal 13 settembre una a tre giorni dall'alto valore simbolico nel decennale del sisma e a cento anni dalla fondazione dell'ANA. Si tratta di un quarto raduno ricordando il battaglione dell'Aquila De Rubeis sogno di profonda amicizia e amore per il territorio. Rivolta contro la centrale a Biogas ad Avezzano tre sindaci della Marsica orientale si battono contro l'arrivo dell'impianto sotto a Collarmele dopo il sì della regione Abruzzo. San Benedetto e Pescina insieme ma c'è anche la solidarietà della vicina Massa d'Albe promosso un incontro pubblico intanto a Scanno anzi perdonatemi a Luco De Marsi stroncato da un malore mentre va a lavoro e tua ancora problemi per gli studenti pendolari nella Marsica. Corsa degli Zingari vince un 17enne nella simpatica iniziativa di Pacentro a Chieti SOS cinghiali vicino alle case abbattuto un altro animale un branco estanziale in una zona centrale della città nel fosso sotto le terme romane ennesimo schianto con un'auto il conducente ferito a una gamba intanto i Cinque Stelle fontane nel degrado e disservizi nella raccolta dei rifiuti ed essa Mara Challenge il fantasma horror avvistato su via Cauta il curioso caso nato sui social che sarebbe arrivato anche nel capoluogo Tiatino mare e fiumi inquinati tutti assolti a Lanciano il giudice Andrea Belli ha dichiarato inutilizzabile la perizia della procura perché è eseguita dopo la scadenza delle indagini escono a testa alta dal processo l'ex presidente Sasi Scutti e Marco Tullio della EcoS che doveva controllare i depuratori ed evidentemente secondo l'inchiesta non lo ha fatto servizi più cari l'assessore sono in linea con i comuni vicini la polemica scoppiata a Ortona sfrattato il centro anziani di Lanciano e bufera sulla nuova sede vediamo nella foto il presidio conseguenziale allo sfratto ed ecco Teramo i cantieri della fibra ottica rivoluzionano la viabilità i lavoratori i lavori iniziati ieri fino a venerdì 13 disagi e divieti in tutto il centro storico corso la ruzzo di fine al comune per le griglie delle acque piovane ed è colpo nella raccolta avacchi il giallo dei quadri rubati proseguiamo prima di andare sullo sport ma non tenete temete sportivi ci torneremo dopo leggiamo la città di Teramo sono 1.157 le assunzioni in tre asla abruzzesi l'aquila 519 pescara 299 teramo 339 approvate i piani triennali del personale flessibili per i manager ancora il falso allarme per quattro bombe nucleari alla stazione di Bologna di pescara perdonatemi sicurezza solo una scuola su quattro è a norma l'associazione ha presentato un esposto chiedendo il sequestro di quelle insicure a pochi giorni proprio dal ritorno sui banchi trovata la pirata che investì il pensionato e Teramana la donna che in tre mesi non si è mai fatta avanti dopo aver travolto l'89enne giuliese Camillo Pechini stop al gioco delle colpe sulla ricostruzione sindaco preoccupato dalla brutta piega assieme al commissario chiediamo al governo nuove regole per il sisma e ospedale nuovo in commissione vigilanza giovedì l'audizione per il project financing con l'assessore alla sanità Veri il direttore Faniano e il manager di Giosia richiesta da Cipolletti compensi manager la regione ha varato l'adeguamento dei compensi dei manager dell'ASL da 110.000 a 150.000 euro l'anno stipendi da capogiro minore indagato per l'omicidio del pensionato eseguita l'autopsia sul 73enne Teramano Calogero Sansone struncato da un malore durante una lite a Sciacca il motivo dell'alterco il canne del ragazzino infastidiva i clienti la lite col minore è nata quando il 73enne gli ha chiesto di tenerlo al guinzaglio e ancora la sanità slitta ancora il pagamento nelle manutenzioni in ASL da tre mesi gli interinali attendono 485.000 euro annui dal fondo per equazione mentre abbiamo visto aumentano gli stipendi dei direttori generali ma adesso come promesso torniamo sullo sport andiamo subito su quello che riguarda lo sport della nostra regione a partire dalla serie B il regista di Pescara così ha definito Palmiero un ex che divide Cosenza due anni da idolo poi il divorzio col rammarico dei Silani a pochi giorni dal match in casa del Cosenza anche Maniero è particolarmente alteso al San Vito Marulla nei rosso-blu schiavi corsi d'Orazio Canutè e Bez hanno un passato in bianco azzurro e il club riapre la campagna abbonamenti da oggi fino al 20 settembre è possibile acquistare le tecniche allo store di via Carducci nell'immagine la curva nord del Pescara Teramo Stadio filtra ottimismo il 9 ottobre il recupero con la Sicula domani il sopralluoco della FIFA se ci sarà l'ok domenica il diavolo debutterà Albonolis con la Cavese per quanto riguarda il campionato di serie C ma andiamo sulla paracalestro serie A2 Roseto d'Arcangeli Duro su un Sosa in arrivo Focu e Pivonzie softball contro Monte Granaro l'Atomschietti sogna la serie A2 domenica la finalissima playoff e Atletica Europei Master Proietti Pannunzi argento nel peso di Iorio bronzo sui 100 metri e la serie D va stesse in arrivo Palumbo esposito verso il debutto i biancorossi vicini all'ex Francavilla il fantasista Molisano può esordire col fiuggi Traini conquista il Chieti partenza sprint ma rimangono con i piedi per terra De Vincentis arriveranno rinforzi eccellenza il presidente del Lanciano torna sul mercato dopo il K.O. dell'esordio e la promozione l'Aquila debutto da dimenticare domenica c'è il piano della lente Paganica col Bomber Rossi visceratina ecco rinforzi l'amatori tessera anche il 25enne portiere dell'elicese Vanni ma andiamo rapidamente sulle pagine sportive del messaggero Palmiero contro il suo passato il regista campano torna ad avversario a Cosenza in cui è stato idolo per due anni i compagni di squadra del Pescara li passano la palla succedeva con Verratti a tutti gli effetti il regista dei Biancazzurri ed è casting sulla destra Ciofani favorito su Zappa e Vitturini la nuova Under 21 riparte dall'Abruzzo oggi a Casteldisangro contro il Lussemburgo con il commissario tecnico Nicolato osservato speciale il pescarese Tuminello il Teramo ritrova lo stadio Bonolis oggi il primo allenamento ma si attende il permesso della Lega per giocare domenica Tedino perde Cianci ma ritrova Minelli mercoledì 9 il recupero con la Sicula Leonzio ma a proposito di Teramo andiamo allora a leggere il quotidiano Teramano per quanto riguarda lo sport rapidamente arriviamo alle pagine sportive Diavolo Speranza primo incontro si lavora sui margini della risoluzione del del contratto che scade nel 2021 stadio Bonolis domani il collaudo della FIFA poi si capirà la tempistica con la Sicula come abbiamo visto si giocherà il 9 ma vediamo anche una notizia dal basket colpo della nuova Campli arriva l'ala Pivostilla la formazione Farnese si assicura le prestazioni di uno dei migliori realizzatori della serie C ma vediamo anche la serie D sorridono in due Pineto ancora rimandato i successi di Giulia Nuova e Notaresco cancellano l'esordio Amaro e rilanciano entrambe le formazioni per oggi è tutto per questo martedì 10 settembre la rassegna stampa di mattino 6 finisce qui io vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 con il nostro telegiornale buona giornata Grazie a tutti